Siamo un paesino fortunato perché in questo momento abbiamo un contagiato soltanto. Ci siamo attirati subito per aiutare la popolazione in difficoltà, da subito abbiamo aiutato i possessori di partita IVI disoccupati e in questi giorni stiamo aiutando i dipendenti che stanno ancora aspettando la Cassa Integrazione. Questi aiuti sono stati la solidarietà alimentare con i buoni spesa e la spesa sospesa proveniente dai contributi dei vari cittadini. La spesa sospesa la consegniamo direttamente a domicilio. Inoltre a Pasqua abbiamo portato a casa di ogni bambino frequentante la scuola di Val Gioie un nuovo di Pasqua, questo grazie all'intervento dell'IB e protezione civile. Abbiamo cercato di mettere in sicurezza per quanto possibile tutti i cittadini di Val Gioie effettuando due volte alla settimana la sanificazione dei punti sensibili. Vedi i negozi, vedi i cassoletti di alimentizia, eccetera. Abbiamo effettuato la distribuzione di mascherine. Questa distribuzione verrà effettuata per tre volte. La prima volta l'abbiamo effettuata verso metà del mese di aprile. La seconda sarà effettuata entro il 15 di maggio che saranno le mascherine provenienti dalla regione Piemonte e la terza verrà effettuata nei primi giorni di giugno. Questa è l'ultima distribuzione grazie anche al contributo della Proloco di Val Gioie visto che vorrà contribuire in qualche maniera a questo problema che in questo momento ci affligge a tutti. Niente, non mi resta che augurare a tutti una buona giornata e un ritorno a una vita normale più questo possibile. Un abbraccio virtuale a tutti.